Dunque ora cominciamo col primo dispositivo a semiconduttore completo che è il diodo aggiunzione Diodo aggiunzione Pn Come è fatto il diodo aggiunzione? Praticamente è fatto mettendo accanto due regioni nel semiconduttore, una drogata di tipo P e un'altra drogata di tipo N La giusta posizione di due regioni di questo tipo dà luogo a un comportamento inusuale, un comportamento fortemente non lineare, cioè quello di un diodo Diodo come abbiamo già detto è un dispositivo che fa passare la corrente preferenzialmente o soltanto in una direzione e non nell'altra Vediamo come funziona Per capire bene il funzionamento conviene partire da una situazione di equilibrio termico Quindi equilibrio In cui le due regioni sono separate È una specie di esperimento mentale perché in realtà c'è un tassello di silicio con due regioni drogate in modo diverso Non vengono veramente realizzate separatamente e poi attaccate Ma insomma possiamo immaginare questa cosa perché ci aiuta a capire meglio che cosa succede Allora immaginiamo che ci sia una regione, questa a sinistra, drogata e tipo P Quindi chiamiamola questa regione zona P E poi una regione drogata e tipo N, chiamiamola zona N Allora, com'è fatta la zona P? Ci sono innanzitutto gli ioni negativi Li faccio grandi Questi sono gli ioni nelle posizioni del cristallo Sono negativi perché hanno accettato un elettrone E poi ci sono le lacune C'è un gas di lacune Quindi queste sono positive Le lacune si possono muovere liberamente La concentrazione di lacune è all'incirca pari alla concentrazione di accettori come abbiamo visto E la zona P è complessivamente neutra Cioè ci sono tante lacune Quanti sono gli ioni? Dall'altra parte Io ho Degli ioni Fissi Stavolta positivi Perché sono ioni del quinto gruppo che hanno perso un elettrone E poi ci sono gli elettroni liberi Che sono ovviamente negativi Sono più o meno in concentrazione pari a I donatori Di modo che la regione N sia complessivamente neutra Va bene? Allora detto questo che cosa faccio? Immaginiamo di prendere queste due zone e attaccarle Ok? Le mettiamo insieme Vedete la cosa principale a tenere presente è che nella zona P Praticamente non ci sono elettroni Ci sono soltanto lacune Nella zona N praticamente non ci sono lacune Ci sono soltanto elettroni Cosa succede quando attacco? Quindi questi li metto insieme E le porto a contatto In modo che consento Di Consento alle cariche mobili Di muoversi liberamente in tutto il materiale Allora Ora semplifico un po' il disegno Perché se no mi viene troppo complicato Non disegno più Gli ioni fissi Tanto io attacco Gli ioni rimangono al loro posto Quindi immaginate semplicemente che siano lì L'effetto Vi diamo un po' le differenze soprattutto L'effetto principale Che io vedo qual è È che Nella zona P Ci sono un sacco di lacune Queste lacune Diffondono nella zona N D'accordo? Quindi disegno solo le differenze Io qui non avevo lacune A un certo punto ci finiscono Ripeto Come se fossero molecole incolorante Si buttano di là Per diffusione vanno tutte di là Analogamente Gli elettroni che sono nella zona N Per diffusione Finiscono Da questa parte Allora Quindi ho qui Una diffusione Di elettroni e lacune Discrivo questo processo in che modo? Questa è una diffusione Di elettroni e lacune Attraverso L'aggiunzione Va bene? Questa qui È l'aggiunzione L'aggiunzione è proprio il punto di contatto Tra le due zone Allora Che cosa succede Alle cariche Allora Quello che dovete pensare Immaginiamo di seguire Mentalmente il percorso delle lacune Le lacune arrivano in zona N E lì c'è un mare di elettroni C'è una concentrazione molto alta di elettroni Quindi avviene Quello che abbiamo visto Con la legge di azione di massa Queste lacune Diffondono Trovano Una concentrazione molto alta di elettroni A un certo punto Li combinano con degli elettroni Quindi In altre parole A livello un po' più basso Cosa vuol dire? Questi posti vuoti Lasciati nel reticolo Si propagano Poi ci sono talmente tanti elettroni In quella zona Che qualche elettrone ci finisce dentro E quindi scomparre l'elettrone libero E scomparre la lacuna D'accordo? Chiaramente Nella popolazione Nella popolazione di elettroni Non ce ne accorgiamo neanche Di quelli che sono scomparsi Perché sono talmente tanti Che la porzione Quelli che scompaiono È trascurabile D'accordo? Quindi vivo un pochino le lacune A un certo punto Spariscono Lo stesso avviene Per gli elettroni Che vanno Nella Zona P Trovano talmente Tante lacune Che Dopo un po' Ricombinano E spariscono D'accordo? Ecco Giusto Per introdurre Un altro Un altro po' Di terminologia Le lacune E gli elettroni Cioè Le lacune Nella zona N E gli elettroi Nella zona P Si chiamano Portatori minoritari Perché sono portatori Ovviamente Di carica Ma In quelle zone Sono minoritari Perché sono Il tipo di portatore Con la concentrazione Più piccola Va bene? Mentre invece I Gli elettroni Nella zona N E le lacune Nella zona P Li chiamiamo Portatori Majoritari Quindi Quello che posso dire qua È che I portatori Minoritari Diffondono E poi Ricombinano C'è questo uso di ricombinare Come fosse un verbo Intransitivo Che è abbastanza In voga Quindi I portatori minoritari Di fondo Li ricombinano Quindi spariscono Ok? Cosa succede Complessivamente Alla carica? Guardate Cos'è che succede Ma in pratica Diamo un'occhiata Alla carica fissa Prendo blu Alla carica Dovuta Agli Ioni Quando Le lacune Qui Nella zona P Vicino Alla giunzione Se ne vanno Lasciano Gli ioni liberi Va bene? Quindi rimane qua Vicino all'interfaccia Una zona In cui gli ioni Negativi Che sono presenti Non sono compensati Da altrettante lacune Ok? Quindi qua C'è E questi li Metto in evidenza Che rimangono Negli ioni Non compensati Va bene? Qui non lo sto a disegnare Questa parte Perché in questa zona Abbiamo Una compensazione Tra gli ioni negativi E le lacune Quindi qui Abbiamo una zona Che rimane Complessivamente neutra E qua invece C'è una zona Che è caricata Negativamente Va bene? Analogamente Dall'altra parte In zona N Vicino all'interfaccia Ci sono dei donatori Che sono lì fermi Ma gli elettroni Sono spariti Va bene? E quindi qui Rimane una zona Carica positivamente E di là Più in là La zona rimane neutra Perché gli elettroni Ci sono rimasti D'accordo? Allora Questa qua La chiamiamo Zona neutra Zona neutra Anche questa È una zona neutra Mentre invece Questa centrale La chiamiamo Faccio un asterisco E ve lo segno qua Regione di carica Spaziale 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 Nel senso Che è una carica Non concentrata In un punto Ma distribuita In tutta una regione In tutta quella zona C'è Una Carica A quella carica Questa regione Ha anche un altro nome Perché vedete È una carica Dovuto al fatto Che se ne sono andate Le cariche mobili In altre parole È una carica Dovuto al fatto Che quella regione È stata svuotata Di portatori Si chiama anche La stessa regione Zona di svuotamento Perché Non ci sono più Portatori Quindi qui Ve la chiamo anche Ok Va bene Allora Immaginiamo un pochino Meglio Il Processo Che avviene Dinamicamente Con questi disegni Che ho fatto Dovrebbero bastare Allora Abbiamo le due regioni Isolate Complessivamente neutre Le abbiamo attaccate A questo punto Abbiamo la prima Diffusione di carica Si crea Un pochino Di zona di svuotamento Va bene La zona di svuotamento Ha un effetto Che effetto ha? Vedete Le cariche sono positive Da questa parte Negative da quell'altra Quindi crea Un campo elettrico In questa direzione Questo campo elettrico Vedete Per il segno che ha Si oppone Alla diffusione Vedete Il campo elettrico Spinge Le lacune Nella zona P E gli elettroni Nella zona N È un pochino Quindi Il processo è dinamico nel senso che si comincia e si crea un pochino di zona di svuotamento e quindi un pochino di campo. Questo campo si oppone un pochino alla diffusione. La diffusione avviene lo stesso, è solo un pochino frenata da campo. Continua la diffusione, a questo punto se la diffusione continua la regione di svuotamento si allarga, il campo quindi diventa più forte, si oppone di più alla diffusione e quindi la diffusione viene ulteriormente frenata. Ma ancora continua, però più continua la diffusione più il campo si allarga, più la zona di svuotamento si allarga, il campo diventa forte e quindi frena la diffusione. Le cose continuano così finché si arriva a un certo punto in cui le cariche diffuse hanno creato una zona di svuotamento talmente grande che il campo è così forte che è in grado di bloccare completamente la diffusione e quindi in quel momento la diffusione si ferma. D'accordo? Quindi dopo questo piccolo transitorio ci si trova in una situazione che è quella che ho disegnato in basso, cioè c'è una regione di carica spaziale in cui il campo è esattamente il valore giusto che serve per bloccare una ulteriore diffusione. E questa è la condizione di equilibrio della giunzione. A questo punto niente può più diffondere così si rimane. Ok? Vediamo la cosa dal punto di vista dei profili di carica. La stessa cosa. Immaginiamo di avere quello disegno in alto e sotto facciamo tutti i profili. Immaginiamo che questa sia la giunzione PN. Questa è la zona P, questa è la zona N. Faccio molto in alto perché ho bisogno di spazio. Allora, qui abbiamo la zona neutra. Di qua abbiamo la zona neutra. E qui invece c'è la regione di carica spaziale. Questa è la zona di svuotamento. Allora, facciamo il grafico di un po' di quantità. Per esempio, il grafico interessante è quello della densità di carica. densità di carica che si indica con Rho. Quindi questi sono coulomb per centimetro cubo. Allora, sulla base di quello che abbiamo detto. C'è qualcuno che può chiudere la porta? Sulla base di quello che abbiamo detto. Grazie. Allora, fin qui la carica è nulla. Va bene? Poi, in questa zona abbiamo una carica negativa perché abbiamo una concentrazione di donatori NA. Quindi la concentrazione di carica sarà meno Q per NA. Questo livello qui costante, facciamo costante, sarà meno Q per NA. Poi c'è la zona di svuotamento drogata di tipo N. E quindi qui, di nuovo, c'è la carica in concentrazione. Qual è? La concentrazione dei donatori per Q. Perché ciascun donatore ha una carica Q. Quindi qui è Q per ND, ovviamente positiva, perché i donatori si caricano positivamente. E poi la carica torna un'altra volta a zero. D'accordo? Quindi questo è l'andamento della concentrazione di carica. Densità. Rho è la densità di carica. L'inizità di carica per unità di volume, quindi è Coulomb per metri cubi. Centimetri cubi. Vabbè, insomma, cambia poco. Va bene? Ok. Sullo stesso grafico vediamo invece il... campo elettrico, adesso. Ovviamente voi sapete che il campo elettrico è legato a Rho. In particolare, leggi Maxwell, se scrivo in condizioni statiche, la derivata del campo rispetto a X è Rho diviso Epsilon 0 Epsilon X. Epsilon R, non X. Non vi ho chiamato Rho. Bene, quindi io posso, siccome conosco Rho, posso ricavare e quindi mettiamoci in questa situazione, facciamo il grafico. Supponiamo che la regione sia complessivamente neutra, quindi il campo elettrico sia neutro all'esterno della zona carica, quindi qui è nullo. Poi qui la carica è... la densità di carica è negativa, quindi se guardo questa cosa, una derivata negativa del campo elettrico, quindi il campo elettrico inizia a scendere così fino alla giunzione, in questo punto Rho cambia, diventa QND, quindi la derivata diventa positiva, e questo vuol dire che il campo... Aspettate, sono trascinato. Il campo elettrico comincia a salire e torna a zero esattamente quando finisce la regione di svuotamento. Quindi il campo elettrico ha questo andamento qui. Vedete cosa è importante da tenere presente? Il campo elettrico è massimo al punto... è massimo alla giunzione. Bene, quindi nella zona di svuotamento abbiamo una carica non nulla, è nulla invece altrove, e abbiamo un campo non nullo, mi tenesce il campo e nulla altrove. D'accordo? Il potenziale... posso tracciare anche quello... dipende dal campo elettrico, in particolare voi sapete che la derivata del potenziale è meno il campo elettrico, quindi, come conosco il campo elettrico, posso ricavare il potenziale. Quindi per ricavare il potenziale devo integrare il campo elettrico col segno opposto. Quindi, di nuovo, immaginiamo che il potenziale sia nullo in questo punto. Sapete che il potenziale è definito sempre almeno una costante, quindi in un certo punto posso decidere a piacere quanto imporre di potenziale. Quindi immaginiamo di imporlo a zero qui, qui, fin qui rimane nullo perché la derivata è nulla. A questo punto che cosa succede? La derivata in modulo aumenta linearmente, se faccio l'integrale mi viene una parabola, quindi il potenziale... siccome la derivata del potenziale è meno il campo elettrico, aumenterà parabolicamente, quindi avrò una parabola che fa così, d'accordo? Fino a questo punto. A questo punto cambia il segno della pendenza del potenziale. Se integro questo, mi viene di nuovo una parabola, ma stavolta con la concavità rivolta verso il basso, perché essendo cambiato il segno della... essendo cambiato il segno di E, cioè, essendo cambiato il segno della derivata di E, quando faccio l'integrale mi cambia il segno della concavità. Mi viene in questa direzione, poi quando arrivo qua il campo è nullo, e il campo è nullo, quindi la derivata del potenziale diventa nulla e il potenziale rimane costante. Quindi vedete, il potenziale ha una barriera, è più basso da una parte e più alto dall'altra. Vi ricordo, questa è la zona P e questa qui è la zona N. Questa differenza di potenziale tra un estremo e l'altra, tra quello che c'è nella zona P e quello che c'è nella zona N, vedete, nasce all'equilibrio, cioè, nasce semplicemente per il fatto di aver messo accanto i due materiali. È interessante da notare questa cosa, perché una differenza di potenziale da sinistra a destra che non è dovuta al fatto che ho applicato dei generatori, nasce internamente. È dovuta alla differenza di drogaggio e questo potenziale si chiama potenziale built-in. questo BI sta per built-in. Built-in vuol dire che nasce dentro ed è in pratica intrinseco, per noi è indipendente da quello che c'è fuori, dalle tensioni che applico da fuori. vedete, questo potenziale nella fase iniziale quando le due regioni sono ancora neutre, un attimo prima che siano a contatto, tutte le regioni sono neutre, quindi il campo è nullo ovunque, il potenziale è costante. Nasce nel momento in cui attacco le due regioni. c'è un modo in realtà in cui possiamo vedere abbastanza bene questo potenziale ed è se ragioniamo in termini di energia potenziale, perché vedete qual è l'effetto del potenziale? Il potenziale chiaramente deve avere l'effetto che abbiamo detto prima del campo, tiene separate le lacune da una parte e gli elettroni dall'altra. vediamolo in termini di energia potenziale. Allora, faccio prendere un altro pezzo. Sempre la stessa zona. Guardiamo l'energia che l'energia la stessa un po' in basso. Grazie. Guardiamo qui l'energia potenziale per le lacune. Sarà Q per Fi, va bene? Che l'energia potenziale è il potenziale per la carica delle lacune. Le lacune sono cariche Q e quindi Q per Fi. Quindi come sarà fatta questa energia potenziale per le lacune? Sarà fatta in questo modo. Sarà potenziale per una costante, quindi esattamente come il potenziale. Questa altezza della barriera sarà il potenziale built in per Q. Quindi avrò qui la regione P, qui la regione N. Perché questa energia potenziale è una barriera per le lacune? Che chiaramente le lacune sono qui, avranno una certa energia. Grazie all'agitazione termica alcune hanno un pochino più energia delle altre. Quando la barriera è così alta, nessuna di quelle lacune riesce a passare di là. Perché dovrebbe superare una barriera di potenziale elevata. D'accordo? In questo senso il potenziale built in che si è creato dovuto alla zona di svuotamento tiene le lacune nella loro parte. Lo stesso potenziale tiene anche gli elettroni nella loro parte. Perché se vado a disegnare la stessa cosa, ma per gli elettroni, l'energia potenziale per gli elettroni ottengo una situazione simile. Cioè, l'energia potenziale per gli elettroni gli elettroni sono carichi meno Q quindi è meno Q per Fi quindi sarà come Fi ma invertita. Io posso a questo punto disegnarla invertita, ma essendo definita meno costante per esempio la disegno così è invertita un po' la traslo verticalmente fino a che non torna il valore che mi piace di più questa è la zona P questa è la zona N stavolta il potenziale built in sarà questo per Q va bene? Ecco però, cosa succede? Analogamente gli elettroni che sono di qua hanno energie diverse a causa dell'agitazione terrica ma chiaramente non riescono più a passare dall'altra parte vedono una barriera che impedisce loro di andare nella zona P ok? quella cosa che vi ho raccontato prima dinamicamente di come si crea la regione di svuotamento e si raggiunge nuovamente l'equilibrio si può guardare in termini del campo e della zona di svuotamento come vi ho raccontato prima ma lo stesso film lo possiamo vedere in termini di energia potenziale perché immaginate che cosa succede guardiamolo un attimo in termini di energia potenziale all'inizio, prima del contatto non c'è carica come dire non compensata quindi è tutto neutro il campo è nullo il potenziale è piatto non c'è barriera va bene? attacco ancora carica non c'è spostata non c'è barriera quindi gli elettroni e la cune diffondono nell'altra zona quando diffondono si crea un po' di zona di svuotamento e quindi si crea un pochino di campo si crea un po' di potenziale interno un po' di barriera questa barriera come dire impedisce un po' cioè impedisce non riesce a impedire completamente ostacola un po' la diffusione ulteriore ma non l'ostacola totalmente quindi la diffusione continua la zona di svuotamento si allarga la barriera cresce ok? e quindi la diffusione viene un pochino ostacolata nel processo la barriera man mano che la diffusione continua fino alla barriera cresce sempre di più fino a che a un certo punto è in grado di impedire completamente la diffusione d'accordo? stessa cosa abbiamo visto in termini di forze di campo elettrico si può vedere in termini di potenziale quindi di energia potenziale quindi questo è quello che è successo d'accordo? quindi cosa importante a tenere presente all'equilibrio all'equilibrio abbiamo un potenziale built in realizzato internamente per cui il potenziale della zona n più alto della zona p abbiamo una zona di svuotamento all'aggiunzione e poi due regioni neutre d'accordo? vediamo adesso che cosa succede fuori equilibrio cosa vuol dire fuori equilibrio? attacchiamo un generatore di tensione per esempio allora immaginiamo adesso di prendere il dispositivo fatto in questo modo e il dispositivo attacchiamo un generatore di tensione lo indico così questa è una batteria che con questo segno convenzionale più e meno conoscete il simbolo della batteria no? è fatto in questo modo un trattino corto e spesso e un trattino lungo e sottile il segno convenzionale è che il più è il trattino lungo e sottile il meno è il trattino corto e spesso quindi quando io applico una tensione v tra la zona p e la zona n quindi se v è positiva la zona p è più alta la tensione più alta è la zona n se v è negativa la zona p è la tensione più bassa è la zona n allora ci sono due situazioni una situazione è v maggiore di 0 è quella che si chiama polarizzazione diretta guardiamo il potenziale nella regione come cambia in base al disegno che abbiamo fatto insieme quindi allora prima per comodità vi disegno l'andamento che abbiamo all'equilibrio l'ho appena disegnato insomma mi disegno il potenziale tanto poi ci ricordiamo che il potenziale ha la stessa forma di energia potenziale per le lacune è la forma inversa rispetto all'energia potenziale per gli elettroni l'abbiamo già visto ora non lo sto a disegnare lo visualizziamo quindi allora disegniamo che cosa abbiamo all'equilibrio quindi questo poi qui c'è la zona di svuotamento sale la zona di svuotamento e poi regione neutra questo qui è il potenziale phi b allora se applico una tensione con questo segno cosa faccio abbasso il potenziale della zona n rispetto al potenziale della zona p d'accordo per come ho messo il segno per cui immaginate ho questa questa differenza voi la vedete così io abbasso il potenziale della zona n rispetto a quella della zona p di una quantità pari a v la tensione che applico quindi se lo vado a disegnare che colore prendo verde se lo vado a disegnare mi viene una cosa del genere mi viene qua quindi dove questa qui per esempio è phi bi meno v lo ah no ho sbagliato no questo è v lo abbasso di una quantità v e quindi l'altezza complessiva la porto a phi bi meno v va bene quindi il potenziale sarà più o meno fatto così quindi sarà all'incirca questo e poi scende va bene quindi questa qui è una polarizzazione diretta allora ora è importante notare che cosa succede che in polarizzazione in realtà se ho fatto questa operazione ho abbassato la barriera giusto sia per gli elettroni sia per le lacune ma siccome la barriera era giusto il valore che impediva la diffusione abbassando la barriera io consento la diffusione d'accordo? quindi consento che le lacune continuino a diffondere tra la zona P e la zona N e che gli elettroni diffondano dalla zona N alla zona P chiaro? quindi abbassando la barriera io consento la diffusione poi tenete presente cosa succede in condizioni di equilibrio se c'è diffusione la zona di svuotamento si allarga e l'altezza della barriera viene ripristinata quindi a un certo punto la diffusione viene bloccata ma in questo caso no perché il generatore la tiene lì d'accordo? quindi il generatore tiene fissa la differenza di la barriera di potenziale a un'altezza minore di quella che impedisce la diffusione e quindi la corrente continua a passare va bene? per questo e applicando una tensione maggiore di zero ho passaggio di corrente va bene? il passaggio di corrente ovviamente avviene in questa direzione perché ovviamente gli elettroni vanno dalla zona P alla zona N e sono cariche positive le lacune vanno dalla zona N alla zona P ma sono cariche negative quindi il flusso netto di corrente è come lo lo potete raccontare come l'ho disegnato va bene? ed è la cosa torna è il verso della corrente che spinge il generatore di tensione vedete perché se guardate la maglia la corrente esce dal polo più del generatore e entra al polo meno quindi abbiamo un generatore che eroga potenza che dissipa potenza e chiaramente questa potenza è assorbita dal dal diodo va bene? in realtà l'altra cosa da notare è che basta abbassare di poco la barriera perché la corrente passi praticamente passa subito una corrente anche molto grande basta abbassare un pochino la barriera perché passi qualunque corrente vedremo tra un attimo che la corrente è dipendente esponenzialmente dalla tensione applicata che vuol dire appena un pochino abbassiamo la barriera subito comincia a passare tantissimo corrente ok va bene allora vediamo invece proprio il funzionamento da diodo immaginiamo adesso di applicare una tensione negativa quindi io applico una tensione negativa si chiama polarizzazione inversa quando applico una tensione negativa vi anticipo faccio lo spoiler di dove andiamo a finire in polarizzazione diretta la corrente passa in polarizzazione inversa la corrente non passa perché non passa perché ovviamente probabilmente avete già capito se io applico una polarizzazione inversa invece di ridurre l'altezza di barriera la barriera la alzo quindi ho una barriera che in polarizzazione inversa sarà più alta perché stavolta questo è fi bi meno v come prima però stavolta v è negativo quindi questa è la polarizzazione inversa quindi in polarizzazione inversa la barriera è più alta però ovviamente vuoi immaginare già la barriera che c'era all'equilibrio built in era sufficiente a impedire la diffusione se l'alzo dell'altro sicuramente a maggior ragione la diffusione sarà impedita e quindi non passa carica né da una parte né dall'altra va bene? è v minore di zero la nera v è minore di zero quindi è ok ho detto teniamo il segno v minore di zero non sto a cambiare l'espressione perché deve essere la stessa ok quindi è chiaramente più grande di prima perché v è negativo d'accordo? quindi quindi in polarizzazione inversa non passa corrente ok ed è esattamente questo il come dire il principio del diodo no un diodo è un dispositivo che fa passare corrente preferenzialmente in una direzione diciamo idealmente solo in una direzione va bene per come ve l'ho spiegato adesso diciamo che è una spiegazione d'ordine zero no giusto molto diciamo tipo quark no giusto senza formula quasi senza niente vedete passa la corrente in una direzione e l'altra direzione non passa ok va bene ora rimaniamo sulla rimaniamo sulla descrizione qualitativa e però facciamo un passetto in più perché diciamo all'ordine zero effettivamente la corrente passa solo in un senso e nell'altro non passa se andiamo a vedere un pochino più in dettaglio vediamo che un pochino di corrente in polarizzazione inversa passa e perché passa un po' di corrente perché dovete pensare che in polarizzazione ora io vi ho parlato delle lacune in zona P e degli elettroni in zona N della diffusione che hanno però perché perché vi parlo di quello perché abbiamo detto che in zona P ci sono tantissime lacune e gli elettroni sono praticamente estinti ok però sono praticamente estinti un po' ce ne sono quindi quando le lacune non possono più diffondere inizio a vedere anche cosa fanno i portatori che sono minoritari perché in zona N ci sono delle lacune d'accordo in concentrazione molto bassa e mentre le lacune in zona P vedono una barriera che sale e quindi devono aver loro abbastanza legge per diffondere al di là della barriera le lacune che si trovano in zona N vedono uno scivolo c'è un campo che le spinge dall'altra parte d'accordo e quindi le lacune in zona N vanno verso la zona P spinte dal campo analogamente gli elettroni che sono in zona N sentono una forza lo stesso campo spingere gli elettroni in zona N verso la zona P d'accordo quindi queste due correnti ci sono sono tipicamente trascurabili perché come dicevo sono praticamente estinti quei portatori abbiamo fatto l'esempio l'altra volta se è 10 alla 18 la concentrazione di lacune in zona P la concentrazione di elettroni è 10 alla 2 quindi è 16 ordini di grandezza sotto è chiaro che conta poco però quando siamo in polarizzazione inversa che la corrente dei portatori diciamo maggioritari è irrilevante quell'altra si comincia a vedere quindi in polarizzazione inversa c'è un pochino di corrente che ha segno negativo perché vedete sono lacune dalla zona N che vanno in zona P di elettroni dalla zona P che vanno in zona N ma non è esattamente nulla va bene? quindi la giusto per prendere nota la diffusione è bloccata e esiste solo la corrente è che è una corrente di deriva perché è il campo che li spinge quindi ve lo segno che è una corrente di deriva che sono spinti dal campo elettrico dei portatori portatori minoritari ok è una corrente molto piccola di solito trascurabile che si chiama di solito si incchia con la con la lettera I e pedice S si chiama anche una corrente di saturazione inversa guardate la corrente di saturazione inversa è una corrente che ha un valore fisso indipendentemente dal valore esatto della tensione che applichiamo perché? perché praticamente non è limitata dal campo quella corrente è limitata dal fatto che i portatori minoritari sono pochi quindi praticamente tutti i portatori minoritari vengono buttati di là insomma nelle zone rispettive ok d'accordo poi vengono come dire impiazzati dal generatore quindi il flusso continua però vengono mandati là indipendentemente dal valore esatto della tensione quindi è una corrente costante indipendentemente dal valore della tensione ok va bene quindi questa è una descrizione anche con effetto di primo ordine della corrente in un dio d'aggiunzione Pn dunque vediamo come è fatta graficamente la caratteristica Iv vuol dire corrente in funzione della tensione corrente tensione del diodo dei dio d'aggiunzione a questa scrivo l'espressione analitica e vi disegno la caratteristica non ve la dimostro né niente perché comunque sarebbe un pochino lunga la cosa poi diciamo più di quello che ci interessa in questa fase quindi rappresento la corrente in funzione della tensione e c'è un'espressione analitica che è un'approssimazione però un'approssimazione abbastanza buona ve la scrivo qua I è uguale a IS per E elevato a V diviso eta VT meno 1 questa è l'espressione ci sono un po' di parametri IS è la corrente di saturazione inversa quella che ho appena definito V è la tensione I è la corrente ovviamente eta si chiama fattore di idealità ed è un numero puro quindi senza unità di misura tipicamente compreso tra 1 e 2 e poi VT è una tensione si chiama tensione termica ed è una quantità che abbiamo già incontrato prima è KT su Q quindi è quella tensione che vale 26 millivolt diviso Q diventa millivolt invece che di millie elettronvolt se T è uguale a 300 Kelvin questo è un numero notevole che mi conviene ricordare quindi in pratica VT è una cosa che dipende dalla temperatura fissata la temperatura sono due parametri del diodo che definiscono la caratteristica del diodo va bene IS e eta introdotto quest'altra parola che non so se avete sentito precedentemente caratteristica la caratteristica di un dispositivo elettronico è la curva che lega due grandezze quindi la caratteristica è V è la curva che lega la corrente alla tensione spesso c'è una famiglia di caratteristiche poi lo vediamo insieme in quel caso si usa il plurale caratteristiche se è una famiglia di curve allora tracciamola no vedete è abbastanza facile ovviamente quando V è uguale a 0 l'esponenziale fa 1 e quindi il termine tra parentesi fa 0 e la corrente viene 0 quindi passa da qui dall'origine ovviamente la corrente deve essere nulla quando la tensione applicata è nulla siamo all'equilibrio va bene quando V è negativa vedete a un certo punto la corrente dipende poco da V che è il discorso che abbiamo fatto prima vedete se V è negativa abbastanza negativa no l'esponenziale ha come argomento un numero negativo diciamo qualche unità quindi praticamente è trascurabile rispetto a 1 e I diventa praticamente con S va bene vedete in elettronica spesso facciamo dei conti molto approssimati perché per semplificare arrivare a un risultato ragionevole anche perché tutte le espressioni sono non lineari quindi è chiaro se faccio il limite per V che tende a meno infinito di I viene meno I con S va bene e questo è ovvio la cosa che vi dice l'analisi matematica nella pratica basta che l'esponenziale abbia un esponente di meno 2 e praticamente trascurabile rispetto a 1 quindi I viene praticamente meno I con S quindi questo andamento se io qui traccio I con S I con S è una quantità molto piccola io vedo una cosa così questo è meno I con S poi per V positivo l'esponenziale comincia a crescere e facilmente arriva a qualunque valore quindi ho un andamento di questo tipo proprio un andamento esponenziale che è un andamento che mi ha Ok, quindi la caratteristica è fatta così, tanto per capirsi è importante il fatto che l'andamento sia molto ripido qua, in generale quando io voglio indicare un diodo ideale, cioè un dispositivo che fa passare la corrente soltanto in una direzione, un diodo ideale come è fatto in generale, un diodo ideale dice che se V è minore di 0, I è assolutamente nulla, va bene? Se invece I passa, basta una V praticamente nulla per avere una I qualunque, ok? In pratica un diodo ideale ha una caratteristica fatta in questo modo, da qui a qui, fatta così e poi per V positive subito va in alto a correnti praticamente infinite, quindi questo è un diodo ideale. Il diodo aggiunzio ha una caratteristica che non è esattamente quella di un diodo ideale, ma ci si avvicina abbastanza. Ok, a che cosa serve un diodo? Giusto così completiamo. Un diodo essenzialmente ha come prima funzione quella di raddrizzare un segnale. Che cosa vuol dire raddrizzare un segnale? Raddrizzare un segnale vuol dire prendere un segnale che ha valore medio nullo e trasformarlo in modo da dargli un valore medio diverso da 0. Quindi, il termine di teoria dei segnali vuol dire far apparire una componente continua in un segnale che la componente continua non ce l'ha. Va bene? Quindi chiaramente non si può fare con un filtraggio lineare, bisogna adoperare un circuito non lineare. E' chiaramente un diodo adatto perché il diodo ha una caratteristica che ovviamente non è lineare e per cui è in grado di raddrizzare un segnale. Come si può fare per esempio raddrizzare un segnale? Facciamo un esempio. Se io prendo... Ah, non ho disegnato il simbolo del diodo, vedete? Questo qui è il simbolo del diodo. Aspetta, ci sta meglio però nella cosa precedente. Il simbolo del diodo è questo qua. Quindi un triangolo è una freccia, diciamo, una testa di una freccia è una barriera. Questo simboleggia la barriera. Questo è il simbolo. La freccia indica il verso della corrente. Questo è il simbolo circuitale, quello che si usa nel rappresentare un circuito. Quindi indica la direzione corrente che vuol dire che questa è la zona P e questa è la zona N, idea di raggiunzione. Questi terminali si chiamano tipicamente anodo dove c'è la zona P e catodo dove si indica con A. è l'anodo, K indica il catodo. Sono nomi storici che in realtà si usavano per le valvole, per i tubi a vuoto e poi si sono usati anche per i dispositivi a semiconduttore. E la corrente in il diodo va dall'anodo al catodo. Questo è il modo di ricordarlo. L'anodo è l'elettro che va messo a tensione positiva rispetto al catodo che va messo a tensione negativa. Va bene? Allora, tornando un attimo qua. Se faccio un circuito di questo tipo, super semplice, questa è la corrente complessiva, questa è una tensione, questo è R e questo qui è il diodo. D'accordo? Quindi, questo è l'anodo, questo è il catodo, questa è la VD, la tensione applicata al diodo. Allora, per semplicità, immaginiamo che il diodo abbia una caratteristica di un diodo ideale. Così facciamo prima a vedere il comportamento. Immaginiamo che V abbia un andamento sinusoidale, quindi V nel tempo ha la forma di una sinusoide. Diamo i nomi più simili, chiamiamolo Vs, il generatore segnale, chiamiamo V invece di Vd, quello del diodo, così come l'abbiamo chiamato nelle caratteristiche, così non ci confondiamo. Allora, se scrivo l'equazione alla prima maglia, io trovo Vs uguale a V più R per I. Vedete, quando ho un dispositivo non lineare, com'è che risolvo il circuito? Qui ho scritto l'equazione alla maglia, Vs uguale a V più R per I, che è la caduta sulla resistenza, d'accordo? Qui ho due incognite, ho V e I che sono incognite. Ho bisogno di una relazione tra I e V e la relazione me la dà la caratteristica di corrente tensione del diodo, d'accordo? Quindi io conosco I di V, è la caratteristica del diodo. Quindi vedete, per capire circuitalmente come funziona il dispositivo, ho bisogno della relazione esterna, che in questo caso è l'equazione alla maglia, e una relazione interna, che è la caratteristica del diodo. Faccio il sistema tra le due, è un sistema non lineare, e quindi certamente non ho la garanzia di avere una unica soluzione. Ok? Sapete, il sistema lineare, sotto certe condizioni c'è una e un'unica soluzione. Se il sistema è non lineare, non avete nessuna garanzia, in principio. Tenete presente che essendo questo un sistema fisico, se lo monto, qualche cosa succederà. Quindi posso essere, non matematicamente, ma fisicamente sicuro, che almeno una soluzione c'è. Ok? Posso dire che sia unica, ma che ci sia, insomma, qualche cosa succederà se monto il circuito. Quindi lo posso dire, è un circuito che può esistere. Allora, come facciamo a risolvere questa cosa? Beh, può essere utile, la prima volta, vedere la cosa graficamente invece che analiticamente. Immaginiamo di rappresentare graficamente queste due curve. Chiaramente, se rappresento il sistema tra due curve, quindi la coppia di variabili V che risolve tutte e due le equazioni, graficamente che cosa si traduce? Beh, la prima equazione è una curva, la seconda equazione è un'altra curva, la soluzione del sistema è il punto di coordinata iV che soddisfa le due curve. Quindi è l'intersezione delle due curve. Va bene? E quindi posso fare la cosa graficamente. Tra l'altro in questo caso mi viene molto semplice. Perché? Vs è... La prima espressione su questo piano è una retta. Va bene? Tracciamola. Com'è fatta questa retta? Quando i è uguale a 0, v è uguale a vs. Quindi quando i è uguale a 0, qui passa da vs. vs varia da un valore massimo positivo a un valore di massima allungazione negativo. Quindi si sposta da qui a là. Va bene? E poi, se scrivo i in funzione iV, avrò una retta con pendenza meno 1 su R. Non si è esplicito i in funzione iV. Quindi qui mi viene una cosa del genere. Meno 1 su R è la pendenza. Quindi al variare di vs, la retta... Ops, questo è venuto bene. La retta mi si sposta su questa famiglia. In pratica, al variare di vs, la prima equazione è una... Famiglia di rette parallele, la cui intercetta è vs. Ripeto, vs varia perché ha un andamento sinusoidale. Va bene? Nel tempo. La seconda espressione, la caratteristica del diodo, io posso rappresentarla in modo... posso rappresentare per comodità quella ideale. Tanto mi cambierà un pochino se non metto quella ideale, ma insomma, fino a un certo punto. Quindi faccio quella ideale, è fatta così. E questa, giusto. E poi... No. Nell'altra direzione sarà fatta così. Va bene? Allora, guardiamo i punti di intersezione. Allora, quando vs è positivo, siamo in questa zona, l'intersezione è questa qui, è quella che corrisponde a v uguale 0. D'accordo? Quindi la tensione sulla resistenza, chiamiamola VU, io posso scrivere così. Se Vs è maggiore di 0, abbiamo che V, questa è la conseguenza, abbiamo che V è uguale a 0, tutte le soluzioni sono per V uguale a 0. e quindi RVU che è uguale a R per I da questa espressione mi viene uguale a Vs. Va bene? Trovo che V è uguale a Vs quando Vs è maggiore di 0. Va bene? Se invece Vs è minore di 0, sono su questo ramo e vedete le intersezioni con la caratteristica sono tutte per I uguale a 0. Quindi avrò per Vs è minore di 0, avrò I uguale a 0. Se I è uguale a 0, V verrà uguale a 0. Va bene? Quindi se vado a fare il grafico di V in funzione del tempo mi verrà una cosa del genere. Faccio di nuovo il rosso. Quando Vs è positivo V è uguale a Vs quindi è fatto così. Quando Vs è negativo V è uguale a 0. Poi quando Vs è positivo V è uguale a Vs e quando Vs è negativo così via. Quindi rispetto al disegno di prima ho una cosa del genere. V è uguale a Vs solo quando Vs è positivo e invece è uguale a 0 altrimenti. Va bene? Vedete che V rispetto a Vs è un segnale raddrizzato perché Vs era una sinusoid quindi aveva valore medio nullo mentre invece V non è mai minore di 0 quindi senz'altro ha valore medio positivo. Per essere più precisi questo tipo di circuito si chiama raddrizzatore a singola semionda. D'accordo? questo è un uso come dire tipico di un diodo diciamo la verità è proprio l'uso principale ci sono tanti circuiti con configurazioni molto più complicate che più o meno sempre raddrizzano il segnale. Ora io vi ho fatto vedere questo esempio giusto per farvi capire il principio e minimizzare le espressioni mettendo la caratteristica ideale del diodo se invece mettere la caratteristica ideale metto l'esponenziale un pochino le cose cambiano nel senso che un po' si deforma il circuito d'uscita rispetto a quello il segnale d'uscita rispetto a quello d'ingresso ma diciamo nei casi pratici molto poco per cui il concetto di quello che vi ho detto comunque rimane chiaramente si complicano un sacco le espressioni per cui non vale la pena farle ora insieme però sì il concetto del raddrizzamento di un segnale